11 febbraio 2020, messaggio di Nostra Signora. Cari figli, amate e difendete la verità. La sconfitta dei nemici verrà attraverso coloro che amano e difendono la verità. Le tenebre del demonio sono penetrate nella casa di Dio, ma la luce della verità condurrà la chiesa del mio Gesù a grande vittoria. Piegate le vostre ginocchia in preghiera. Non vi allontanate dal cammino che vi ho indicato. Cercate forze nel sacramento della confessione dell'Eucaristia. Lasciatevi guidare dalle parole del mio Gesù e ascoltate sempre i veri insegnamenti della sua chiesa. Coraggio! Il mio Gesù è con voi. Qualunque cosa accada, rimanete fedeli al suo Vangelo? Non c'è vittoria senza croce. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.